ciao ragazzi bentornati sul mio canale oggi voglio insegnarvi una tecnica che vi permette di arrivare a un risultato come questo partendo da una foto come questa come vedete sono andato a rimuovere tutti i riflessi o comunque gran parte dei riflessi qualcosina si può lasciare l'importante è che nella foto finale non dia fastidio ovviamente per un ritratto è fondamentale avere gli occhi il più incisivi possibile quindi andarli a rimuovere o comunque attenuarli in maniera molto intensa è sicuramente la soluzione migliore come fare beh non è molto difficile ma serve comunque sia avere la costanza e la voglia di apprendere la tecnica che andremo a vedere è solo poi una questione d'allenamento dunque partiamo dalla nostra base io come sempre come prima cosa separo le frequenze in questo caso sto utilizzando questo pannello della chef retacce che è molto carino e poi attivo lo che mi servirà tra poco detto questo vado a portare su i miei controlli che poi vedrete quindi vado a fare un gruppo con il dnb doge and burn e quindi questo sarà il mio workflow di lavoro quindi separazione delle frequenze e doge classico ora perché ho utilizzato questa azione di questo pannello ce ne sono tanti altri che fanno le stesse cose anche beauty retouch 3 lo fa e ce ne sono diverse io le provo un po tutte perché oggettivamente mi piace capire che cosa fa uno piuttosto che cosa fa un altro ma praticamente dette in maniera molto semplice ragazzi sono tutti uguali non è diverso da avere delle semplici azioni come queste che fanno esattamente la stessa cosa comunque ci torneremo sopra per ora andiamo avanti quindi che cosa abbiamo abbiamo la nostra separazione frequente la nostra separazione delle frequenze scusatemi il nostro doge and burn e poi abbiamo questo gruppo che si chiama paint here e quello che mi interessa ovviamente che cos'è un livello vuoto nella modalità normale e un livello vuoto con un metodo di fusione colore ed è questo quello che ci interessa se lo volete fare a zero perché non avete questi tipi di pannelli vi basta semplicemente fare un livello nuovo per cambiare il metodo di fusione e andare sul colore uguale alla stessa cosa ecco perché semplicemente utilizzare un pannello con delle azioni o delle azioni fatte da voi vi agevola il tempo di lavoro non è che vi rende il lavoro più facile detto questo andiamo avanti che cosa facciamo come prima cosa andiamo a a togliere il blu per toglierlo facciamo così prendiamo un pennello tondo morbido va benissimo e andiamo a campionare i colori che troviamo qui ovviamente va bene anche 100% prendiamo un colore dello skin quindi della della pelle e andiamo a fare questo lavoro qua in maniera molto 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 semplice non c'è nulla di complicato ovviamente è normale che rimangano i riflessi della luce perché noi stiamo andando a lavorare solo sul colore non sulla non tanto sul sulla luminosità quindi quella la vedremo in un secondo momento adesso andiamo a togliere tutto quello che non ci serve in maniera anche abbastanza grossolana questa è una tecnica che perdona abbastanza quindi non non ci dobbiamo troppo preoccupare ovviamente un minimo di cura nel campionare il colore ci vuole quindi questo sappiatelo ok fatto questo abbiamo già risolto la maggior parte dei nostri problemi ora dobbiamo semplicemente andare a rimuovere tutta la parte della luminosità che rimane come facciamo beh è semplice utilizziamo la nostra immancabile tecnica dodge and board quindi vado ad attivare i miei controlli che sono questi io solitamente ne aggiungo uno che è inverti poi ve lo farò vedere perché comunque se volete approfondire il discorso dodge and burn c'è un video sul mio canale dove lo spiego in maniera molto approfondita quindi se vi interessa imparare questa tecnica o migliorarla potete andare a vedere quel tutorial andando avanti ora andremo a togliere le luci quindi vado su burn che sta per darken quindi sta per scurisci ok brucia sarebbe prendo un pennello in questo caso io utilizzo un pennello come questo un pennello custom pennello organico ma va benissimo qualsiasi tipo di pennello va benissimo anche un tondo morbido opacità e flusso dipende un po da voi io li uso perché anche qui quando ho definito il pennello è stato definito con questi valori che sono idonei per me e possa andare comunque a modificarli in qualsiasi momento per voi sarà diverso se usate il mouse la tastiera e soprattutto la penna quindi la tavola a seconda di quello che è il vostro la vostra pressione e il vostro stile diciamo di stroking quindi di tratto andiamo avanti e adesso iniziamo praticamente ora il gioco sta nel semplice fare il dodge and burn quindi io mi metto comodo con la mia tavola perché il mio stroking è questo il verso più comodo più preciso insomma e devo solo pennellare sulla maschera in maniera molto pulita pratica come vedete nulla di strano nulla di complicato nulla che non si possa imparare bene con qualche esercizio ovviamente ragazzi consideriamo sempre questo visto che comunque sia ne stiamo parlando perché comunque se i miei tutorial sono per lo più su photoshop ne arriveranno altri anche che riguardano magari attrezzature tecniche ripresa posizionamento luci luminotecnica e tante altre cose ma stiamo lavorando per noi comunque sia il canale è stato riavviato da poco e quindi al momento faccio solo questo tipo di contenuti e spero che vi piacciono un attimo ragazzi che sto cercando di capire che cosa sto combinando ok sto scurendo troppo scusate ok sbagliato maschera io e dicevo perdone mi perdo oggi mi perdo dicevo questo questa è una tecnica che se usata in maniera sopraffina vi garantisce un risultato veramente importante ovviamente anche qui ci sono tantissimi stili perché chi lo fa ma questo per essere precisi proprio per voler spaccare il capello viene definito micro dodging e micro burning quindi micro dodge and burn perché lavoriamo sulla sulle micro imperfezioni in questo caso non sono imperfezioni ma teoricamente le possiamo considerare tali quindi si lavora sulle micro imperfezioni della pelle dall'altra parte c'è anche il macro dodging burn che va a riprendere praticamente i volumi delle di tutto il viso di tutto il corpo a seconda della foto che è stata che state trattando e spesso è quello che poi vi porta a ottenere un risultato un pochettino più diciamo mettiamola così un pochino più digital art quindi un pochettino più fake image oppure se lo fate in maniera molto soft oppure fate semplicemente un re lighting molto pulito della foto vi permette di aumentare molti volumi ma lasciare invariate comunque sia le fisionomie soprattutto i volumi che le fisionomie naturali del soggetto vi danno questo per esempio è un errore che vedo molto spesso fare che la gente esagera con lo skinner touch o con per chi usa male la separazione delle frequenze praticamente va a annichilire quelli che sono i tratti somatici della persona aumentando in maniera smodata magari le sfumature delle transizioni che ci sono tra magari lo zigomo e la guancia e questo fa diventare una persona più tonda o con una mascella più più dura è importante nel senso sono errori che secondo me sono testimonianza di due cose la prima una poca cura del prodotto che si sta offrendo e la seconda una mala cultura di quello che si sta facendo comunque ora passo un attimino in un'altra tecnica io utilizzo che si chiama reverse dodging potrebbe essere leggermente fastidioso all'occhio ma ci ho fatto ci potete fare l'abitudine questo è quello che ci troviamo davanti vado a resettare la curva di contrasto e vado ad alzarla in modo da fare un bring back praticamente delle alte luci quello che sto cercando di capire è dove sono tutte le alte luci che ancora non ho non sono riuscito a vedere perché il controllo non me lo permetteva fatto questo in questo caso sono tutte queste come vedete per esempio c'era una lineare netta se se vi ricordate questa è un'altra tecnica molto molto importante perché vi permette di andare a essere molto precisi e andare a togliere transizioni anche molto dure come questa ora che sto togliendo io in questo momento e lasciare un look fondamentalmente naturale quindi che è quello che perlomeno io nella mia fotografia cerco magari c'è chi non gli interessa tutta questa precisione interessava magari solo ed esclusivamente andare a attenuare i riflessi un vetro però visto che è un tutorial ed è didattica penso che valga la pena spiegarlo in maniera completa e totale un'altra cosa ovviamente i miei video non sono tagliati quindi non a volte magari esce una parola storta o magari mi fermo perché sto pensando a quello che devo dire lo so che non è proprio la miglior cosa da fare però non volevo un imprinting troppo serioso troppo distaccato alla fine è un modo di fare che è mio nel senso io sono così come mi state sentendo e mi piace essere così ma non perché voglia piacere a qualcuno in particolare ma credo che un approccio più casalingo più confidenziale verso chi mi segue sia la scelta migliore per far permeare tutti quei concetti in maniera scherzosa in maniera divertente ma comunque sia mantenendo il livello di quello che stiamo facendo molto molto alto perché nel mentre parlo mentre mi intrattengo io comunque lavoro e sto finendo a fare quello che poi spero sia il risultato finale una volta finito questo e a me scoccia per esempio una cosa che per esempio scoccia me quindi non la faccio tutti fare quel tipo di video dove fondamentalmente che cosa va a succedere chi lo sta facendo dice ok ragazzi ora metto in pausa il video finisco il lavoro e vi faccio vedere cosa ho fatto e questa è una cosa che io personalmente odio oppure quelli che aumentano la velocità e non ci si capisce più nulla come vedete nel mio caso state anche vedendo tutte le varie volte che cambio magari il pennello cambio la durezza cambio la dimensione controllo ricontrollo passo un'altra parte eccetera 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 e questo secondo me è sempre parte la didattica quindi è importante capire che chi sta di fronte a voi non è un automa che fa tutto benissimo alla prima volta senza senza problemi e senza nessun errore anzi la la grande secondo me il grande vantaggio del di chi lavora nel web o comunque chi lavora seriamente in tutti i campi è quello di spiegare in maniera corretta e perché una cosa va fatta in un certo modo piuttosto che in un altro e questo viene solitamente dal fatto che se siano verificati degli intoppi tra cui anche degli errori quindi la conoscenza proviene anche dagli errori che uno commette e questa è una cosa che oggi si tende un pochettino troppo a sottovalutare perché perché corriamo tutti no abbiamo sempre tutti voglia di correre siamo sempre tutti a 2000 siamo sempre tutti iperattivi iper social e non ci fermiamo mai a riflettere sul fatto che magari alcune cose come anche la semplice fotografia ha bisogno delle sue cure del suo tempo comunque siamo più o meno in dirittura di arrivo ora ovviamente non farò tutto quanto perché non sarebbe gestibile la cosa ragazzi però per darvi un'idea di quello che è il risultato finale vorrei vorrei finire le ultime tre cose come vedete io poi sono molto pignolo su quello che faccio quindi tendo a magari a investire anche troppo tempo per controllare e ricontrollare ma questa è una diciamo che è un mio pregio barra difetto comunque vado a eliminare i miei controlli e questo è quello che mi trovo quindi prima e dopo prima e dopo ovviamente un piccolo una piccola chicca qui noi abbiamo una zona che comunque abbiamo attenuato ma in realtà qui dovrebbe essere un pochettino più scuro perché fondamentalmente c'è l'incavo della nostra del sopracciglio infatti qua come vedete la transizione è leggermente diversa per farlo è semplicissimo utilizziamo un nuovo livello in questo caso io lo metto sopra perché altrimenti andrei a interferire con il dodge and burn prendo il pennello nero questa volta un pennello normalissimo nero anche al 100% vado a prendere un colore che non sia nero 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 ma sia vicino a le ombre dure e vado a fare questo poi semplicemente vado a utilizzare prima fondi se quindi ve lo faccio rivedere premo qui vado premendo alt apro questa freccetta e poi vado a utilizzare l'opacità a seconda di come mi serve ovviamente in questo caso qui sono arrivato un pochettino lungo con col pennello basta che prendo una maschera riprendo il mio pennello stavolta con un flusso un pochettino più basso pennello nero e vado a fare questo in modo da fare di nuovo vedete il punto luce è qui quindi deve essere per forza qua e poi qua andate a gestirvi la vostra la vostra ombra per avere una transizione guardatela magari sempre un pochettino a lontano perché è molto più semplice capire quello che sta succedendo questo è un po' quello che abbiamo fatto ovviamente potremmo tornarci sopra con il dodge and burn e sistemarlo ancora un pochettino meglio però in generale non mi dispiace come come è avvenuto il lavoro anche qui magari sono arrivato un pochettino lungo con con il tratto prima quindi ok se non basta continuate a fare questo finché non trovate una soluzione a voi con geniale dunque vediamo che cosa abbiamo fatto questo è dove siamo arrivati e questo è da dove siamo partiti direi un bel cambiamento sicuramente un cambiamento importante ora il discorso qual è non è come vedete una cosa difficile da fare è semplicemente che ci vuole un po' di pazienza nell'utilizzare la tecnica del dodge and burn comunque prima di salutarci voglio ricordarvi due cose la prima è quella di iscrivervi al canale e attivare la campanella se non l'avete fatto così rimarrete aggiornati su tutto quello che esce la seconda cosa è che se volete vedere tutto questo in live e interagire con me parlare con me mi trovate su twitch quindi in descrizione trovate tutti i link per raggiungermi gruppo telegram twitch instagram quello che volete quindi io vi invito a lasciare un like un commento se vi va iscrivervi al canale iscrivervi al canale twitch e seguirmi perché a voi non costa nulla e mi supportereste molto detto questo grazie e ci vediamo al prossimo tutorial ragazzi ciao ciao